ciao a tutti polaretti e pandini e bentornati in questo nuovissimo video di stambol guys in questo video faremo vi faremo vedere il nuovissimo aggiornamento proprio perché è uscito un nuovo stambol pass premium e gratis e intanto voglio dire che da oggi ci saranno di nuovo video di stambol guys perché guardate quanto si è abbellito e dunque voglio ripubblicare video su stambol guys perché mi piace tantissimo abbiamo la ruota della fortuna e i frammenti epici gratis abbiamo dei pacchetti poi stambol pass poi abbiamo queste due speciali stambol pass dove possiamo bloccare bakugo e uraviti poi abbiamo le abilità e poi abbiamo dei regali che è uscita la nuovissima skin quanti un belositi non lo posso prendere è bellissimo questo quanto un belositi vediamo a gritti dance epica poi diamo comune non ce l'avevo perché sto rifacendo un nuovo account poi ericsson perché l'avevo disinstallato raga dunque e poi samba dance vabbè poteva andare di peggio andiamo rara va bene tutte rare epiche poi abbiamo questo che dobbiamo riscattare riscatta ma è una skin scusate poi il biglietto del torneo la prossima volta facciamo il torneo poi il gettone abilità ok no raga è più bello di prima poi abbiamo questo aiuto è bellissimo poi no gettone abilità poi abbiamo 50 gettoni stambol e poi abbiamo la chiave abilità iniziamo a giocare vabbè ovviamente non in gruppo però vogliamo fare una partita allora se esce super slide mi giuro che mi butto dalla finestra no ovviamente sto scherzando no raga mi devo buttare dalla finestra no ovviamente sto scherzando però è uscito super slide non ho capito perchè la mia mappa preferita no jungle roll a te madonna mia io jungle roll non mi ricordo come si faceva c'è sono bravo stambol guys questo inizio dietro del super slide dai perchè cado in 5 secondi oggi non è un giorno fortunato saliamo e facciamo i trick di super slide che mi ricordo poi sono usciti 20.000 mappe nuove vediamo se riesco a fare il trick ovviamente no spera forse è più da vicino non perdo perchè io sono più in perro vabbè così ci riesce pure un nabbo perché se no io ti ammazzo come una ciccia no forse no un nabbo vabbè comunque lo voglio aggiungere che l'ammazzo come una ciccia come ammazzo come una ciccia come ammazzo come una ciccia perchè non mi fa non mi fa fa vincere un gottino come la ciccia aiuto aiuto sono ultimo sono ultimo sono ultimo sono ultimo no raga che sedere che ho che sedere la shower non è proprio una delle più brutte però insomma ci voglio capire di peggio io amo le mappe di super slide ho nei drop poi block dash e anche laser dash oh oddio raga c'ho un'ansia quando viene sta mappa c'ho un'ansia oh sto t-rex non lo vedo proprio sicuro sicuro eh è pure sta gallina no non ne vedo nessuno sicuro no raga io ti giuro no raga io ti giuro c'ho una paura no ma poi in finale raga in finale no raga sono bloccato no raga non ci credo c'ho una paura no raga a me viene l'ansia mi viene l'ansia ho vinto ho vinto la finale ho vinto la finale ho vinto la finale ho vinto la finale la mia seconda corona poi abbiamo pure le missioni che possiamo sbloccare allora prendiamo questi qua tipo e ci stanno tipo sti cosi non so come dire non so gli xp tipo e devi sbloccare tipo le stelle le gemme e l'isambul ucci 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 ah no gli xp sono altra cosa ucci l'isambul ucci 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 raga quanto costa l'assemble pass premium costa 799 raga ma costa di meno raga costa di meno costa 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 va 12 euro mi pare un pezzo di lego e lo so perchè alla fine possono avere tipo un'animazione dei lego tipo carino un pezzo dei lego wow sono riuscita a fare il trick ecco facciamo questo piccolo trick è proprio un trick però l'altro trick ci consiste nell'andare sopra tipo stai sopra cioè stai in uno scivolo e devi andare nello scivolo superiore nonna nonna mia e basta ste paleoliche ok qualificato cosa uscirà cosa uscirà ci metto oddio tartar tumble quello delle tartarguelingio io lo chiamo la mappa delle tartarguelingio oddio ma che è questa cosa tipo fogna non hai capito oggi dobbiamo sbloccare tipo questo per dei punti tipo no raga sto scivolo è il mio peggior nemico ci siamo qualificati va bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale ci vedete la campanella lasciate un bel like lasciate un bel commento e condividete questo video con tutti ciao e mi raccomando fatemi sapere se vi piace stumble guys di nuovo cioè che lo faccia di nuovo e soprattutto fate iscrivere tutti quelli che conoscete per far raggiungere i 400 iscritti ciao